amici e amiche di peppe high tech bentornati sul canale allora vi voglio far vedere questa classe con le m4 a 1 mi è stata suggerita da donny d'arco in parte questo perché non ho tutti gli accessori che lui mi ha suggerito di utilizzare avevo sottovalutato questa arma e non mi sono mai impegnato più di tanto a sbloccare tutti i suoi accessori di conseguenza con modifiche da me a portate che potete vedere qui e potete vedere anche qui sotto rimpicciolendo la mia immagine vedete che così l'ho settata ora per vedere il suo reale funzionamento ci rivedremo non tutti contro tutti le migliori parti di tutti contro tutti delle solite tre giocate tre partite che io faccio quindi ci rivediamo direttamente sul campo di battaglia voi mi raccomando seguite il video fino alla fine e lasciate il mi piace ragazze quanto pare atlas superstore affezionato a me ogni volta gioco a tutti contro tutti è la prima mappa che gioco e vi ricordo sono in modalità veterano non classica veterano oh dato come non l'ho neanche visto opla la 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 ok muori ok vai bravo opla questa l'ho sbagliata io però l'ho beccato ops ce n'è uno vicino oh muori bene no dove sei ops 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 fammi scappare no oh da dove ah eccolo là sopra era attenzione UAV in rientro forzato per fare rifornimento eccolo eccolo ucciso morto oh l'ho visto appena appena muori UAV in zona pronto al suo volo bene questa M4-1 mi pare abbastanza buona bene vai no no dai perché ci hai messo così tanto a ricaricare oh bene solo un paio davanti a te avanti su we loader 2-0 ricevuto faccio a grappolo in corso ok uno ucciso l'attacco a grappolo un altro ucciso bene ok morto ok via 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 no dai ok morto ricarichiamo qui ok preso ricarica no dai è sbagliato ah grosso errore ah mi sembra di sentire qualcuno qua ok sono arrivato terzo alla fine ah per un pelo per un pelo pensavo di arrivare secondo bene ragazzi bene 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 signori e ora la proviamo in vacant una delle mappe che non è che mi piacciono tanto però 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 dai vediamo questo m4a1 che cosa è capace di fare qui vediamo prima non si è cavicchiata male dai dovrai cavartela da solo soldati dove si è andato oh oh eccolo là uno stava lì guardalo là come stava bello imboscato mmm ora sa che sono qua è meglio ops avanti alla finestra non è la parte ideale ah è rimasto lì mi sapevo se non andasse bene dai mmm facciamo attenzione bene via morto ora sembra che mi fanno respawnare qualcuno avanti ecco appunto pronto allo schieramento guarda dove è ucciso bene attacco a grappolo pronto al lancio ok morto ok muori due vai no guarda dove stava il terzo muori ah tu stavi ancora là ok muori muori no ok l'hanno ucciso dov'è oh bene 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 ucciso muori muori dai l'ultima uccisione no no quanto sono arrivato oh quarto alla fine no per un'uccisione penso di arrivare terzo va bene ragazzi avete visto quella che è l'M4A1 con dei gadget che la rendono bella stabile avete visto da lontano come è precisa e comunque come può essere letale quindi ragazzi se volete vedere avete visto il settaggio che ho utilizzato ricordatevi però non ho i gadget tutti tutti ancora disponibili quindi penso che più avanti vi porterò qualche altro qualche altro scontro con l'M4A1 ah ecco vedi ora ho il calcio un altro calcio e vi porterò dicevo qualche altro scontro per farvi vedere quanto possa essere letale quest'arma che devo dire la verità avevo molto sottovalutato quindi io ringrazio Donny Darko per avermi segnalato l'M4A1 come un'ottima arma con i giusti accessori grazie ancora Donny noi ci rivediamo con il prossimo video grazie a tutti per avermi seguito e per i like che lascerete e commentate mi raccomando che mi fa molto piacere mi raccomando ricordatevi pure di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ditelo ai vostri amici che possono essere interessati al mio canale ciao a tutti e grazie ancora grazie a tutti